a tre giocatori del Napoli poi sono stati bravi a trovare l'uomo libero e un'assa a infilare però nasce da qua ecco diciamo beh diciamo che la faccia di Spalletti già raccontava meglio di qualsiasi parola la situazione non perfetto qui in meretta la palla gli passa sotto sotto non era un tiro impossibile